Siamo con il sindaco di Bari Michele Emiliano, volevamo chiedergli due cose. La prima, per i 30.000 posti di lavoro a che punto è il contatore? Il contatore ovviamente sta subendo anche l'impatto di questa crisi economica imprevista, però non è male, nel senso che abbiamo decine e decine di cantieri aperti in tutta la città, abbiamo una grande quantità di danaro pubblico che sta affluendo sul mercato grazie a questi cantieri aperti, ce ne sono molti altri che ancora apriranno, stiamo per completare i lavori della spiaggia di Torrequetta che è stato un lavoro di decine di milioni di euro, sta per partire il ponte dell'asse nord-sud che è un lavoro da 40 milioni di euro dove pure lavoreranno centinaia di persone, stanno per cominciare, io mi auguro se la regione si sbriga a metterci a disposizione i fondi, tutti i 600 progetti del piano strategico. In termini numerici, in quanto possiamo quantificare? Ovviamente questi dati sono difficili da quantificare approssimativamente e soprattutto è azzardato farlo in relazione al primo anno di attività dell'amministrazione. Noi abbiamo, anche perché porterebbe male e io cerco di non fare annunci trionfalistici, quello che possiamo dire però è che migliaia di persone in questo momento stanno lavorando grazie agli investimenti del Comune di Bari e molti altri lavoreranno nei prossimi anni. È chiaro che il piano dei 30 mila posti di lavoro è un piano che riguarda 5 anni di amministrazione e riguarda l'utilizzo dei fondi strutturali. Al primo anno, nei primi 10 minuti di una partita, il risultato finale non si può neanche intuire. Acqua pubblica, acqua privata, qual è la sua posizione? Ma sicuramente acqua pubblica, ma acqua pubblica senza fregare i comuni. Io ho l'impressione che qualcuno alla regione parli di acqua pubblica perché vuole che la regione gestisca le reti di proprietà dei comuni. Questo se lo possono scordare la regione Puglia.